Sono 117 le persone risultate positive al coronavirus in Campania su 5134 tamponi di questi 39 sono viaggiatori 29 dalla Sardegna 10 dai paesi esteri e quanto rende noto l'unità di crisi regionale 0 i decessi registrate nelle ultime 24 ore mentre 7 sono le persone guarite ad oggi il totale dei positivi è pari a 7285 persone su 430.232 tamponi risalgono i contagi da coronavirus anche a livello nazionale nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.326 casi contro i 978 di ieri 6 le vittime 2 in meno di 24 ore fa 7 persone positive di cui si è a Salerno ed una a Baronissi è il dato raccolto ieri pomeriggio dall'asla da Salerno sulla diffusione del covid-19 tutte le persone erano entrate in contatto con altri casi positivi rilevati in precedenza già isolati e monitorati nella mattinata erano inoltre risultati positivi due coniugi residenziali a Scea ma che esercitano la propria attività commerciale a Ceraso si tratta di contatti del turista straniero in vacanza rilevato proprio a Ceraso giorni fa è stato infine registrato sempre ieri un nuovo positivo a Scafati in isolamento domiciliare per il quale in queste ore si stanno ricostruendo i contatti nel frattempo l'ordine dei medici ha lanciato un appello ai quasi 8 mila iscritti per ricordare l'obbligo delle comunicazioni della PEC fondamentale per assicurare informazioni e comunicazioni uguali per tutti sul fronte dell'emergenza gli esperti raccomandano sempre l'utilizzo della mascherina l'unità operativa dell'ospedale di Sarno ha attivato sei nuovi posti letto di terapia subintensiva respiratoria previsti nell'ambito dell'unità operativa complessa di medicina generale dotati di ventilatori polmonari, adeguata strumentazione tecnologica e sistema di videosorveglianza sentiranno la gestione di pazienti critici, cardiologici e respiratori che verranno presi in carico dal pronto soccorso e da altri reparti altri 4 posti letto, in stanza visita pazienti previsti presso il pronto soccorso ospiteranno pazienti in attesa dell'esito degli esami che possono essere assistiti nel frattempo da un familiare liberando in tal modo posti di pronto soccorso che potranno essere destinati ad altre urgenze La vaccinazione anti-influenzale può proteggere anche dal covid-19 riducendo quasi del 50% il rischio di contrarre l'infezione lo rivela una ricerca scientifica condotta dall'istituto Mario Negri insieme al Politecnico di Milano i cui risultati sono stati pubblicati oggi dal sole 24 ore l'indagine ha comparato i dati tra persone sottoposte ad esami per sospetta infezione da coronavirus e che si erano vaccinate per l'influenza per altre malattie come la poliomenite, la varicella, lo pneumococco e la tubercolosi ed è emerso che la possibilità di ammalarsi di covid-19 e di sviluppare la malattia in maniera grave notevolmente ridotta proprio in chi si è sottoposto alla vaccinazione anti-influenzale negli ultimi due anni si tratta di ricerche pubblicate su piattaforme mediche quindi ancora non sottoposte a rivalutazioni di terzi dati comunque incoraggianti ha spiegato al quotidiano di Confindustria Giuseppe Remuzzi direttore scientifico dell'istituto Mario Negri ovviamente ha aggiunto queste risultanze vanno confermate soprattutto occorre comprendere i meccanismi immunologici che possono spiegare queste situazioni che risultano essere al momento di grande interesse non a caso il trend di riduzione del rischio si mantiene anche per chi si è vaccinato nei confronti di queste infezioni negli ultimi cinque anni grazie a tutti 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 ore 8 in punto si apre il cancello e i 66.000 aspiranti medici con la loro carta d'identità tra le mani entrano a monte sant'angelo con la voglia di conquistare un sogno, quel camice bianco che sarà in realtà solo per circa 13.000 di loro. Come ogni anno il concorsone di medicina è un mix di emozioni, c'è chi lo tenta per la prima volta, chi torna fiducioso dopo un anno, l'attesa di mamma e papà, chi arriva preoccupato e chi quest'anno all'ansia da esame aggiunge quella per il covid. Tutti i mascherati hanno solcato la porta d'ingresso e a piccoli gruppi hanno raggiunto le aule, circa 70. I candidati a medicina fanno registrare sia per la Federico II che per la Vambitelli a Caserta un lieve calo rispetto al passato. Erano 1.700 alla Vambitelli solo un anno fa ed erano 4.669 alla Federico II. E se i ragazzi che aspirano al camice bianco sono diminuiti, quelli che vorrebbero prendersi cura della salute degli animali, sono in netto aumento, più 760, quelli che aspirano a diventare veterinari. Il meglio di me, poi si vedrà, ognuno dà il meglio di sé, giustamente. È un po' un'arma a doppio taglio a mio parere il numero chiuso, poiché se da una parte fa in modo che non ci siano troppe persone a fare la stessa facoltà, come capita ad esempio per giurisprudenza, da un lato purtroppo non fa entrare tante persone che avrebbero la vocazione o comunque lo spirito di fare medicina. Io penso che ci siano tante difficoltà proprio per quest'anno, però spero di riuscire ad ingranare. Sinceramente io già l'ho provato lo scorso anno e ho trovato abbastanza difficoltà. Sicuramente il test non è una cosa semplice, diciamo entrare in gioco molte cose, ansia, la preparazione che a volte può essere anche più del sufficiente, però comunque il fattore ansia penso sia fondamentale per quanto riguarda il test, quindi penso, spero bene. Che sia sicuramente un po' più semplice degli altri anni, comunque siamo stati penalizzati di parecchio anche perché lezioni online, quindi la maggior parte del programma non l'abbiamo svolta adeguatamente anche a scuola. Molti ragazzi magari per un giorno che è andata male non possono realizzare il proprio sogno. Potenziali servizi online per aiutare gli utenti senza il rischio di creare i fili assemblamenti negli uffici aperti al pubblico. Dallo scorso 5 maggio l'Agenzia delle Entrate ha varato una serie di servizi web per andare incontro alla cittadinanza nel periodo post lockdown. In questo modo ai cittadini viene data la possibilità di visualizzare via web la dichiarazione dei redditi precompilata accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per consultare le informazioni già inserite dal fisco. La precompilata è disponibile per chi presenta il modello 730 e per chi presenta il modello redditi persone fisiche. Tra le novità la maggior presenza di informazioni sulle spese sanitarie sia quelle erogate da professionisti sanitari che dalle strutture militari. Entrano inoltre nel modello precompilato i contributi previdenziali versati all'Inps con il libretto di famiglia. Si potrà accedere alla propria precompilata tramite le credenziali speed con quelle dei servizi telematici come Fisco Online e le credenziali rilasciate dall'Inps e tramite carta nazionale dei servizi. Il neonato sarebbe stato lanciato dal balcone di casa. A farlo sarebbe stata la madre, una donna di 42 anni. Il corpicino è finito nella siepe del parco residenziale di Via Roma, Roccapiemonte. Il terribile gesto immediatamente dopo il parto avvenuto nell'abitazione della coppia fermata nella notte dai carabinieri con l'accusa di omicidio. In casa c'erano il marito della donna, un uomo di 49 anni e il figlio letto di 9. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo in quelle stanze, come sia potuto amaturare una tragedia simile e perché. Qual è stata la posizione del marito? Perché non ha impedito alla donna di lanciare nel voto il bambino appena nato? Ed ancora, cosa ha visto oppure sentito l'altro figlio? Il trauma che ha vissuto, privato improvvisamente del bene più caro, la famiglia. La drammatica scoperta è avvenuta ieri sera, verso le 19. In Via Roma c'è una zona residenziale, con un parco, con edifici alti tre piani. Ci vivono diverse famiglie, molto agiate. A trovare il neonato è stato un condomino che stava scendendo in garage, tra la siepe. Ha notato un piedino. Ho pensato ad un bamboloccio. Ha poi raccontato. No, mi sa che ero un ricaduro. Cioè, mi sa che erano un bamboloccio. Sento che c'è una ragazza sopra, ci si è chiettato un bamboloccio. Si è fatto cross. Non so quanto. Scatta l'allarme, arrivano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, un'ambulanza, i vigili urbani. La gente si riversa in strada. Una donna porta giù un lenzuolino per coprire il piccolo. Il neonato ha una profonda ferita alla testa, provocata dall'urto con gli arbusti della siepe. Poco dopo arrivano il medico legale e il sostituto procuratore Roberto Lenza, mentre gli uomini della scientifica continuano i rilievi. Dopo l'esame esterno del corpicino, il magistrato dà il via libera al trasferimento del cadavere all'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera. Qui sarà effettuata l'autopsia, che dovrà sciogliere molti punti oscuri, stabilire se il piccolo fosse nato già senza vita oppure sia morto per l'impatto. Nel frattempo in via Roma arriva il sindaco, Carmine Pagano, e padre Rosario, il religioso della vicina parrocchia. Un sogno, un brutto sogno, però purtroppo è così, è stato rinvenuto questo abilionato, credo di poche ore, senza vita qui nella siepe di questo parco, incidentalmente scoperto da un condomino che l'ha visto. Da prete mi verrebbe di dire abbiamo perso il... di capire, di scoprirci come dono di Dio, la vita come un dono, qualsiasi vita, di qualsiasi persona mi verrebbe da dire questo, ma soprattutto non è la risposta precisa in questo momento. Nel cuore c'è soltanto tanto dolore, una vita spezzata, così piccola, non sappiamo nemmeno nulla di quello che sia successo, sappiamo soltanto che un bambino non c'è più. Le indagini durano poco, gli inquirenti, dopo aver sentito i residenti del parco, individuano la donna che era incinta, viene sentita nella sua abitazione e poi portata via, poco dopo toccherà al marito. Non conosciamo cosa abbiano detto ai carabinieri e al sostituto procuratore, in casa resta soltanto il figlio, insieme ai carabinieri che devono sorvegliarlo. Una famiglia apparentemente normale, raccontano i vicini, mai problemi, l'uomo lavora in un ristorante, la donna è casalinga, il giallo resta. Perché disfarsi di un bambino subito dopo il parto? Perché il marito non è intervenuto? Perché partorire in casa? Un gesto premeditato? Oppure il parto è stato un evento impreviso e la mamma, salita dal terrore, è andata sul balcone e ha lanciato nel vuoto il piccolo? Il gesto è stato dettato da un momento di depressione della mamma? Nella sua crudeltà? Con quale speranza la coppia pensava di farla franca? Non immaginavano che gli inquirenti sarebbero arrivati a loro in pochissimo tempo? Come effettivamente è successo? Le domande potrebbero continuare all'infinito, le risposte arriveranno al termine delle indagini a cui stanno lavorando i carabinieri coordinati dal sostituto Lenza. Gli abitanti di Roccamionte sono attoniti per quanto accaduto, in segno di lutto sarà osservato un minuto di raccoglimento, le bandiere del comune saranno poste a mezz'asta. Il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha scoperto tra i quartieri San Giovanni a Teduccio, zona Vigliene e Ponticelli, due attività commerciali clandestine dove venivano stoccati legalmente e messi in vendita anche di notte prodotti lattiero caseari. Sequestrati un locale in cui veniva esercitata l'attività abusiva e una tonnellata di mozzarella non certificata, ovvero priva delle autorizzazioni amministrative e sanitarie di tracciabilità, destinata a bar, ristoranti e alberghi della regione. Individuate anche centinaia di etichette realizzate per attestare falsamente le caratteristiche organolettiche, la provenienza delle materie prime utilizzate per il confezionamento, la data e il luogo di produzione che avrebbero creato pericolo per la salute di centinaia di consumatori. L'intervento è stato condotto dai finanzieri del secondo gruppo insieme al Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Napoli 1 Centro e ha interessato due aziende, la prima risultata sconosciuta al fisco, la seconda riconducibile a un caseificio in cui gran parte dei prodotti erano proibite la documentazione igienico-sanitaria necessaria per ricostruirne la provenienza e la qualità. Elevate anche le maxisanzioni previste per la presenza di tre lavoratori in nero. Hanno tentato di introdurre droga e cellulari nel carcere di Bellizzirpino, denunciati tre ragazzi della provincia di Salerno. La scorsa notte una pattuglia perimetrale esterna della penitenziaria dell'Istituto Avellinese ha individuato tre ragazzi che si aggiravano con fare sospetto nell'area del parcheggio e che tentavano di lanciare una palla oltre la cinta muraria. All'interno, come è stato poi appurato, c'era dell'ascisce tre microcellulari destinati con ogni probabilità a detenuti familiari o congiunti. La pattuglia della penitenziaria, con l'aiuto dei carabinieri, che nel frattempo sono stati allertati e intervenuti sul posto, hanno bloccato i tre ragazzi. Inutili i loro tentativi di disfarsi dell'involucro. Alla fine i tre sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Dal segretario regionale Vincenzo Palmieri il plauso agli agenti della penitenziaria che insieme con i militari dell'arma hanno portato a termine l'operazione. Come sindacato, spiega Palmieri, continueremo a fare l'impossibile per contribuire a migliorare il sistema lavorativo degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria, sollicitando i vertici dell'amministrazione locale e centrale a porre in essere una maggiore attenzione anche attraverso la fornitura di strumenti tecnologici e un rafforzamento dell'attuale pianta organica per potenziare i controlli in punti nevralgici ai fini della sicurezza, perché ad Avellino e in altre strutture penitenziarie troppo spesso si registrano episodi analoghi. E di due feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale verificato si invia torri a mano calzati. Nello schianto sono rimasti coinvolti una moto e un autocarro ad avere la peggio i due centauri si tratta di una ragazza di 21 anni originaria di Monteforte e di un ventenne di Avellino. I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, sono ricoverati in rianimazione, sono intubati, le loro condizioni sono estremamente gravi. Il personale medico della cittadina ospedaliera di Contrada a Moretta li tiene sotto stretta osservazione. La ventunenne e il ventenne hanno rimediato diversi traumi su varie parti del corpo. Per l'autista dell'autocarro invece nessuna ferita. Il conducente dopo lo schianto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi ai due giovani centauri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Avellino. I militari dell'arma hanno provveduto ad effettuare i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il rilancio dei borghi italiani parte dallo smart working. Dopo il successo in termini di arrivi e presenze nelle località turistiche con meno di 5.000 abitanti, lo aveva previsto all'inizio estate anche il ministro dei beni culturali e turismo Dario Franceschini, una nuova stagione si apre per questi piccoli tesori di natura, arte e accoglienza fatta su misura. Mentre il Politecnico di Milano insieme al Touring Club sta avviando una mappatura dei borghi d'Italia per realizzare progetti integrati di smart working tra comuni, l'Istat appena certificato che il 90% delle grandi imprese, quelle con più di 250 addetti e oltre il 70% di quelle di dimensione media hanno introdotto e steso la modalità di lavoro da casa durante l'emergenza Covid-19. Si tratta di una nuova vita per i centri storici dei borghi troppo spesso abbandonati o comunque vissuti solo durante la stagione estiva. Un sistema quindi per delocalizzare la vita urbana per periodi più ampi del classico weekend e per diluire le presenze negli uffici in città in tempi di coronavirus. Un modello già adottato in Toscana dove insistono decine di borghi già trattori turistici internazionali e pronti alla nuova sfida del ripopolamento da smart working, come sottolinea il sindaco di Cetona in provincia di Siena Roberto Cottini da anni nella classifica dei borghi più belli d'Italia. È un'opportunità da intercettare di cui avevamo avuto percezione già prima dell'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria non può non aver dato ulteriore corso a rafforzare l'idea che si può vivere e lavorare anche nei luoghi come il nostro, nel nostro borgo. È chiaro che questo implica che ci debbono essere delle infrastrutture come la fibra ottica in modo da rafforzare quest'idea di vivere almeno una parte della settimana o del mese nel nostro territorio per poi tornare magari alcuni giorni della settimana o del mese nei grandi centri per poi andare a lavorare nelle aziende. L'occupazione delle camere d'albergo a Napoli è stata del 49% nel mese di agosto, un crollo rispetto allo stesso periodo del 2019 quando era del 79%, ma poteva andare anche peggio viste le premesse del mese di luglio che aveva fatto registrare il 30% dell'occupazione. Le notizie negative arrivano invece dal mese di settembre, storicamente uno dei migliori dell'anno da un punto di vista turistico caratterizzato da cancellazioni e poche prenotazioni. A scattare questa fotografia è stata Federalberghi Napoli. Oltre l'80% dei turisti in città quest'estate erano italiani e hanno soffrito del bonus vacanza, provvedimento che ha riscosso abbastanza adesioni, ma per valutare gli effetti benefici per il comparto alberghiero bisognerà aspettare la fine dell'anno. Anche la Fipe, con Massimo Di Porzio, ha commentato i dati della stagione appena trascorsa, una delle più travagliate degli ultimi anni. Sicuramente, anche per come ci siamo arrivati, perché al calo di fatturato di agosto si è aggiunto quello di marzo, aprile, maggio, in cui c'è stato un calo del 100%, per così dire. I dati di Federalberghi sicuramente sono dei dati che fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, per come dico io, però chiaramente la situazione è un po' a macchia di lopardo, per vari motivi. In primo luogo perché si parla di presenze, non si parla quindi di fatturati delle imprese. In secondo luogo perché è normale che nelle zone turistiche ci sia stata una ripresa un po' più importante rispetto a quelle che sono altre zone, che invece purtroppo continuano a vivere una stagione di grandissima difficoltà. Io credo che sia molto importante, anche per il futuro, cercare di promuovere il nostro territorio, le nostre aziende. Io leggevo di un aumento dei contagi in Campania. La maggior parte sono tutti contagi di ritorno, tra virgolette, che dimostrano ancora una volta come le nostre aziende, da un punto di vista della sicurezza, abbiano applicato al 100% quello che è stato il protocollo di sicurezza. Quindi cerchiamo, piuttosto che dire, di chiudere la regione, che penso che sarebbe un'ulteriore mazzata per le nostre aziende. Io punterei molto su questa efficienza ed efficacia dei protocolli di sicurezza applicati nelle nostre aziende e nella regione Campania. Ci faremo trovare pronti per l'inizio del campionato. Sarà una stagione difficile perché il Napoli dovrà giocare molti big match ravvicinati. Questo è il primo commento a caldo del tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, dopo la compilazione del calendario di Serie A. Il Napoli esordirà in trasferta a Parma e poi ospiterà il Genoa, ma la terza giornata avrà già il big match a Torino contro la Juventus e subito dopo il match con l'Atalanta di Gasperini, tre giorni prima della prima giornata di Europa League. Tra la dodicesima e la tredicesima, invece, le sfide consecutive contro Inter e Lazio. Un saluto ai tifosi, invece, lo ha dato Márquez Allan, che ieri ha lasciato il ritiro di Casteldisangro. Grazie al club e grazie ai tifosi per tutto. Allan, 29 anni, parte alla volta dell'Inghilterra, destinazione Everton per circa 30 milioni di euro, raggiungendo Carlo Ancelotti, l'ex tecnico azzurro, che l'anno scorso lo aveva come punto di riferimento nel suo centrocampo a Napoli. Ben trovati da Nikos, che ho detto è un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Ci apprestiamo a vivere un fine settimana che vedrà l'alta pressione regnare indisturbata sull'Europa centro-meridionale, quindi siamo dinanzi a una pausa soleggiata dal clima estivo per le nostre regioni, proprio tra venerdì e domenica. Quindi una finestra, una parentesi, questa fine settimana con il sole e il bel tempo. Andiamo a vedere la prossima immagine, mappa delle precipitazioni a scala europea, che ci conferma l'assenza di fenomeni solo durante il pomeriggio. Qualche occasionale e isolato piovasco informazione sulle zone interne dell'Appennino meridionale, poi i rilievi della Sicilia. Attenzione a qui, qualche temporale localmente intenso, proprio durante le ore pomeridiane, ma in dissolvimento durante la serata. Andiamo quindi in sintesi con la mappa dell'Italia, che ci aiuta a capire la situazione meteo, con l'alta pressione in rinforzo sulle nostre regioni, il bel tempo, il sole, le temperature in aumento. Iniziamo localmente a superare i 30 gradi sulle centrali tirreniche, altrove invece un clima estivo durante il pomeriggio, piacevole e ben sopportabile. Brevi temporali di calore sull'Appennino meridionale e alcune zone interne della Sicilia.